Siamo nel terzo vlog salve buongiorno ci siamo operativi oggi terzo vlog tanta gente e siamo crotta d'adda e niente tanti mezzi abbiamo un best rider oggi caldo abbiamo il secondo top rider eccolo qua caldina e poi abbiamo qua guardate quanto è grosso non è grand'angolo è proprio grosso dio bestia siamo quasi pronti per la prima entrata ci siamo oggi siamo con 125 sarà la tribulare perché pista nuova e abbiamo appena cambiato il carburatore messo un cane e niente vediamo se tutto funziona siamo anche fortunati oggi quindi piano piano niente siamo a piedi domenica di merda servirebbe un getto del massimo da cambiare perché magrissima non riusciamo a andare quindi oggi guardiamo gli altri niente raga allora visto che il 125 oggi non funge proviamo questo cappa nel 2016 sul mio amico lorenzo che ci fa fare un po di giri altrimenti siamo a piedi bene così qua siamo più nuovo una nuova trotta vediamo con questa tappa bene tutto qua e adesso si gira a destra a destra andiamo a attacchirlo tutta a destra la faccia ancora come prima andiamo tutta come prima questo qua adesso lo andiamo indietro non è più come prima sembra nuova noi siamo chiamo un po' non c'è una via Questa capa non è mare ma... Siamo dai, oggi li abbiamo fatti Questa capa non è vero Questa capa non è vero Questa capa non è vero Buona Ci siamo Toccata blu adesso E niente vediamo Ci siamo E a maca Ci sono Questa è una bella pista Siamo Questa è un rischio N Susan No 1 1 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.